Prosegue la due giorni dedicata a innovazione e sviluppo che fa di Piacenza la capitale della ricerca con gli stati generali per focalizzare il ruolo e soprattutto il futuro della ricerca nella nostra regione e più in generale nel nostro paese. A spiegare le politiche regionali e soprattutto il ruolo determinante che può avere la nostra città in questo senso, forte di una posizione strategica, è stato il presidente della regione Stefano Bonaccini. Piacenza per noi è un territorio strategico, è una porta di ingresso dalla Lombardia e non solo verso l'Emilia Romagna. Deve credere di più in se stessa e soprattutto non sentirsi lontana da niente e nessuno. Noi stiamo facendo molto per Piacenza e questa città può diventare anche una città turistica. Le due salite al Guercini e al Pordenone mi hanno visto presente perché lì noi ci stiamo investendo perché crediamo che ci siano gioielli, tesori in questa città in passato troppo poco valorizzati. Ricerca vuol dire studio e studio è sinonimo di università, il cui ruolo si dimostra ancora una volta determinante in ottica innovazione e sviluppo. L'università è decisiva con la ricerca perché nella globalizzazione ciò che progetti, che ingeni, che produci sia a un livello di qualità che si innova completamente. Dirò di più, noi nel 2021 saremo la prima regione completamente digitalizzata d'Italia. Abbiamo fatto un investimento di 180 milioni di euro arrivati dal governo, altri 75 milioni di euro di fondi europei che mettiamo noi perché vogliamo che da Zerba fino alla Val Marecchia, l'alta Val Marecchia riminese, cioè anche tutto l'Appennino Emiliano Romagnolo, abbia tutti i comuni in cui arriva la banda ultralarga a 30 e a 100 mega e la fibra ottica. Grazie.